secondo spazio di telebari social night è una parte prevalentemente affidata a maricla non so nulla ma dalla scaletta leggo che ci sarà ospite un imprenditore digitale per fortuna anche in questo caso c'è un rvm che ci aiuta a capire meglio il nostro argomento vediamolo insieme questo video è dedicato ai normali i normali ma poi che cosa significa forse andare a scuola all'università e poi finire per lavorare a mcdonald sposarsi avere dei figli e poi chi sarebbero tutti gli altri i pazzi quelli strani ma se chi sono i pazzi e quelli strani sono quelle persone abbastanza folli da cambiare il mondo einstein steve kubrick loro erano strani eppure tutti sappiamo chi sono perché hanno cambiato il mondo quindi amico mio prenditi del tempo esci dal normalità e magari anche tu riesce a cambiare il mondo infatti lo aveva anticipato tu andrea qui insieme a noi abbiamo l'imprenditore digitale luca miniello ciao grazie grazie per l'invito grazie a te per essere qui con noi allora abbiamo appunto anticipato che sei un imprenditore digitale nello specifico un consulente di marketing digitale e ha iniziato all'età di 19 anni anzi all'età di 17 anni ancora minorenne dopo insomma subito dopo aver finito a scuola in sostanza anzi in contemporanea quasi e quindi ci interessa scoprire da te come ha iniziato e perché da dove è partita insomma l'idea allora principalmente iniziato per gioco cioè io bazzicavo sui social e tutto quello che era internet e mi divertivo a creare queste fan page al tempo chiamate fan page a un tratto mi sono trovato con un pubblico di follower che era intorno ai 10 milioni e quindi la domanda era cosa ci faccio poi nel tempo guardando anche molto al mercato americano perché nel mercato americano è quello che si è aperto prima di tutti al mondo digital quindi osservando loro studiandoli ho trovato un metodo per guadagnarci e farci anche ai tempi mi ricordo quando iniziavo a parlare di tutto quello che era il mondo digital veniva un po preso in giro cioè fino all'età di 20 anni anche oltre la gente mi diceva ma cosa stai facendo che lavoro fai esattamente esatto e la domanda che viene fatta in realtà ancora oggi perché quando magari pensi al consulente digitale c'è molta gente che in realtà non non capisce poi fino in fondo in che cosa consiste ma vi dirò di più questa gente è qui ma ce ne sono tanti ma tantissimi e quindi è per questo che abbiamo invitato luca qui per insomma rivelarci qualche altro dettaglio ma anche perché fondamentalmente tu sei uno dei precursori io avevo scelto quel video in particolare della normalità perché fondamentalmente nell'era digitale in cui ci troviamo oggi questo viene considerato un lavoro normale ora si ora si esatto e quindi dicevi appunto sei partito poi all'estero allora no prima ho fatto un'esperienza come il lavoro normale dove i miei genitori mi hanno preso un supermercato annuale provincia di Venezia quindi in questo supermercato ho provato a fare qualche azione di online marketing come viene chiamato oggi e mi sono accorto che funzionava cioè tutto quello che avevo studiato negli anni negli anni due anni che avevo studiato stava funzionando anche per l'offline e lì mi si è acceso una lampadina aspetta ma l'online marketing legato al supermercato cos'è creare uno store online pubblicità online dici ai tempi ti parlo di otto anni fa non esistevano ancora il sistema e commerce come lo vediamo oggi quindi quello che facevo io è portare la gente dall'online all'offline quindi era in gergo tecnico un try to store si chiama adesso quindi cosa facevo mettevo le promo che noi avevamo in volantino sulle pagine facebook e sulle nostre piattaforme la gente veniva per comprare quei prodotti lì e quindi lì si è acceso una lampadina vendiamo questo supermercato io inizio ad andare un po in giro a raccontare quello che facevo come lo facevo eccetera eccetera in italia tutte porte chiuse perché era visto come una cosa un po strana ambigua ma veramente ci sono queste persone che guardano è un po strano quindi per fortuna mi trovo in questa società a roma una società che smistava talenti diceva e mi manda mi fanno una scelta mi propongo una scelta singapore o dubai in singapore non sono potuto andare perché non sono laureato non ero laureato ai tempi e quindi si apre si apre la porta a dubai e lì a vent'anni mi trasferisco prima per un mese dove faccio un piccolo percorso diciamo formativo dove presentano un progetto quindi avevo questo un mese di tempo per presentare questo progetto e poi mi portano mi mandano a casa io dico vabbè è finita è stato bello bellissimo dubai bellissima però sono a casa adesso in realtà mi chiamano dopo tre settimane dicendo viene a lavorare per noi ed è una multinazionale che oggi è leader nel settore e-commerce ecco quindi poi lì appunto ha iniziato insomma ad aprire alcune attività in proprio esatto allora dopo esattamente nove mesi ho aperto la mia prima attività che si occupava proprio di marketing digitale e consulenza digitale per delle imprese che lì sono piccole e medie ma noi da qui in Italia sono già grandi in realtà perché sono comunque corporate mentre in seconda fase ho aperto tutta la fase delle start up quindi portavo le società ma così come stiamo vedendo le aree aperte no quello è un po' il mio hobby in realtà sono un po' appassionato di volo, paracadutismo e volare in generale wow, adoro e quindi ma invece la mia curiosità è questa con la lingua come hai fatto? lì si parla in inglese inglese sì però comunque tu hai sempre vissuto in Italia no? cioè al di là dell'inglese scolastico che si può imparare a scuola ok, io prima di arrivare a Dubai ho portato dei miei casi studio loro erano molto interessati a quello che io stavo riuscendo a produrre in Italia quindi loro hanno detto vieni da noi, ti facciamo noi una formazione io comunque un po' l'inglese lo parlavo, lo ascoltavo tanto anche perché per fare tutto quello che ho fatto inizialmente io ascoltavo tanto il parlato e comunque tutto quello che veniva dall'America quindi un po' la risonanza americana o comunque lo slang americano ce l'avevo nell'orecchio ecco e quindi è stata abbastanza facile anche perché se stai lì, sei sul luogo, diventa abbastanza facile parlare la lingua poi hai deciso di tornare in Italia? allora, prima di tornare in Italia ho fatto un po' un giro ho stato a Los Angeles un periodo, poi a Londra e poi sono tornato in Italia ecco ora ho aperto una società qui in Italia con sede a Bari però faccio un po' da pendolare Bari-Milano perché ovviamente Milano è una delle sedi centrali per la parte marketing e comunicazione però comunque hai deciso di divulgare le tue conoscenze, le tue informazioni apprese in tutto il mondo attraverso un libro, hai scritto Global Player quello è stato il mio primo libro quel libro l'ho scritto nel 2018-2019 non l'ho scritto in Italia, però stavo a Bali, in Indonesia ecco e mi ero preso questo mese un po' così per scrivere questo libro avevo fatto questa proposta in realtà è un libro che va tutto in beneficenza ricavato di questo libro principalmente e poi nasce non è un libro che parla esattamente di marketing ma è romanzato quindi io tramite una storia a ogni capitolo ti lascio una skill di digital marketing perché è nato tutto dalla consapevolezza che in Italia non tutti comprendessero il mio lavoro quindi ho detto qual è il modo più semplice per avvicinare gente che magari è over 40, over 50 scrivo questo libro romanzato e ogni capitolo c'è un caso studio che ho portato io realmente sei riuscito in questa mission? vedi un po' tu? no, 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 non lo so dipende da chi lo legge quando lo leggeranno allora in realtà abbiamo fatto un bel po' di vendite in primi due anni questo è il terzo anno che viene ripubblicato quanto pare sta andando bene si, si sta iniziando sta iniziando a crescere comunque il mestiere del consulente digitale quindi chissà se chi ci sta guardando magari ha letto il libro e si è appassionato a questo mestiere qui intanto tu sei molto interessato anche all'approccio dei bambini al marketing comunque e alla tecnologia in generale esatto, sì allora proprio in quest'ultimo anno leggendo studi comunque vedendo come si muovono i multinazionali sono nati dei dati un po' allarmanti qual è questo dato? i bambini non sanno che cos'è una pubblicità quindi dai 4 ai 12 anni cosa succede quando un bambino viene condizionato da un influencer o comunque segue una persona che per lui è importante impattante nella sua vita e qui nasce uno studio che hanno fatto prima le ragazze dell'IMIT ovviamente dove si parla proprio di questo approccio con questi bambini dove sviluppano dipendenze sia a livello affettivo perché poi non hanno un affetto reale ma i genitori si limitano realmente a dargli il telefono e dire lui è il tuo babysitter lui è la tua mamma lui è il tuo formatore la tua formatrice e non è proprio una cosa bellissima da vedere né da vedere né proprio come si relazionano i bambini e la società che li verrà poi davanti tra l'altro mi ricordo un aneddoto personale mio fratello all'età di 6 anni davanti al pc ha comprato un computer su ebay così dal nulla quindi effettivamente è anche rischioso non lasciare un bambino davanti a un dispositivo elettronico c'è da dire che però il manuale delle istruzioni è la cosa più noiosa da leggere al mondo quindi bisogna dare un insegnamento ma farlo anche in maniera fruibile sì sicuramente infatti molti tendono a privatizzare il bambino del cellulare quello che voglio fare io invece è educare il bambino a utilizzo del cellulare che è un processo diverso più impegnativo però è quello più efficace intanto hai provato a pensare di farlo attraverso dei podcast? allora sì ci ho provato ho fatto qualcosina anche tramite qualche podcast per far comprendere sempre alla parte più anziana italiana anziana dico sempre over 50 che magari non è proprio addomesticato o non ha domestichezza con il cellulare o comunque tutto quello del mondo digital e in più ci provo anche con i più piccoli perché sono le due fasce che sono più vulnerabili perché Andrea devi sapere lo so già che anche se non ci ha invitato noi li rendiamo omaggio con un podcast vediamo l'RWM allora eccoci qui a questa nuova puntata come ospite Alessandro il professore Alessandro Cecchi Paone benvenuto benvenuto nel senso che mi sento benvenuto grazie allora Ale come abbiamo un po' parlato ci siamo un po' scontrati non scontrati abbiamo un po' scontrati mai diciamo dialogato di questo fenomeno nuovo fenomeno per l'Italia vecchio per l'estero nel senso che c'è un cambio generazionale se vogliamo dire prima si guardava la tv ad oggi si guardano i social o il telefonino tu che comunque sei diciamo della vecchia guardia quindi della televisione come la state vivendo questa situazione? io sono uno dei pochi che non la teme che non è dispiaciuto che lo considera un fatto benemerito per quanto tardivo sul panorama diciamo dell'Occidente ecco quindi hai avuto ospiti come Alessandro Cecchi Paone ma l'abbiamo avuto anche noi io non c'ero ma io non la prendo mai sul personale sono molto sportivo salutiamo Alessandro hai voglia salutiamolo però ci sono anche tanti progetti che hai realizzato al di là di questi podcast che comunque attirano insomma una parte un po' più più giovane che è quello dell'associazione di volontariato End in the World sì nel periodo in cui sono stato in Indonesia prima di andare in Indonesia ho fondato questa associazione che si occupa proprio di salvaguardare se i bambini ma anche il pianeta fa queste due diciamo queste due vie uno perché il trend del pianeta lo sappiamo tutti sul riscaldamento quello che è non voglio annoiarvi con queste cose no ne abbiamo parlato tante volte nelle social rassegne quindi ci interessa però ovviamente non abbiamo tanto tempo per farlo e poi i bambini perché comunque ripeto sono quel pubblico più sensibile ecco e tra l'altro Andrea noi a proposito di social e quant'altro e di trend adesso siamo inondati da foto sì hot no e di il fatto perché volevo lo dicessi tu volevo comunque ah ok le foto come quelle che fa la nostra collega Cristina Ferrini dove è quasi un cartoon ah gli avatar esatto allora questa è la Ferrani comunque c'è questa app che si chiama Lens che modifica il volto dei personaggi famosi o comunque delle persone comuni cioè anche io e te possiamo farlo ma costa io non lo faccio sì costa è vero io infatti ho provato 5 euro non gli do manco morta comunque no il discorso alla base è quello che fondamentalmente che marketing strategy c'è dietro o no? il fatto che si chiedono in molti è appunto siamo disposti davvero a farci cambiare i connotati per essere apprezzati addirittura da un processo di intelligenza artificiale ci vorrebbe un libro ci vorrebbe uno psicologo ma noi lo chiediamo comunque a un consulente digitale che comunque un po' di psicologia nella vita l'ha fatto quello che sta facendo quest'app ma non solo quest'app c'è anche tutto il trend della voce c'è l'intelligenza artificiale in generale sta portando un drastico cambiamento ai lavori di tutti noi cioè io parlo anche del mondo digital immagino un grafico che comunque nel mondo digital è una delle figure più presenti ad oggi è in rischio è in pericolo perché comunque l'intelligenza artificiale sta facendo dei passi da gigante detto ciò tutto il mondo del lavoro cambierà pensiamo ai medici pensiamo al medico che non sarà più il medico come lo intendiamo oggi cioè la persona che va lì e opera ci sarà magari una macchina combinata all'intelligenza artificiale che sarà molto più precisa molto più rapida quindi questo trend da una parte può spaventare però io sono del parere sono un po' darwiniano in questo caso che non è mai nel più forte nel più intelligente che sopravvive ma chi si adatta meglio quindi in questo caso dobbiamo adattarci anche all'intelligenza artificiale che comunque sta entrando nelle nostre case in ogni modo con i nostri smartphone e invece parliamo dei tuoi progetti attuali so che sei interessato comunque al mondo degli influencer ne abbiamo vista una prima che era Chiara Ferragni sì esatto allora con gli influencer con la mia startup stiamo avviando un progetto è già avviato in realtà nella quale aiutiamo gli influencer a essere più appetibili al mercato perché molti influencer non sanno comunicare oppure se hanno un metodo comunicativo è molto embrionale quindi non sanno realmente le aziende cosa cercano noi gli aiutiamo sia nel processo di sviluppo dell'influencer stesso ma anche essere appetibili al mercato quindi non essere solo l'influencer che parla o se vi volete bestemmia perché è quello che fanno molti di loro ma gli educhiamo sia essere più etici perché anche la parte eticità è molto importante ma essere più anche appetibili al mercato io ho una domanda boomerissima da fare in conclusione e figurati allora non so se sei la persona giusta alla quale fare questa domanda ma dal punto di vista del marketing siamo in chiusura quindi risposta secca questi affari come il mio telefono rosa ci ascoltano? è una domanda che si fanno un po' tutti sì benissimo Maricla con quest'ultima domanda che mi mette i brividi e la risposta che mi mette ancora più i brividi io vi ringrazio intanto Luca Migliello per insomma averci dato tutte queste delucidazioni e noi ci vediamo per la terza parte subito dopo tante sorprese dopo